Oh bello, Giovanni. Oh, bello. Sta studiato? Eh sì, sto finendo le nostre riduzioni qua, ne ho credo molto, però. Eh, lo sai, non so io, ora se li guardavo insieme. Dagli una netta, vedi se capisci qualcosa. Guarda questa, la reale. Sì, però le nostre riduzioni, dai, mettiamo i seduti, iniziamo a fare qualcosa, inizio a leggere, aspetta, mi ha scritto Giulia qua. Lei va in internet. Dai, no, beh, Giulia, io devo rispondere per forza, le pari. Rispondi, intanto lo vedo qua. Ok, io ho risposto, ora ho detto via. Da qua, non hai capito, da qua a superare. Aspetta, mi ha risposto. Dai, io, lo sai. La faccio da solo. No, vabbè, Giovanni. Che era? Cioè, c'è sta Giulia, lo sai con chi sta, con Tamara, all'euro. L'ho detto se le vogliamo raggiungere. Che stai a dire? Ma che stai a dire? Dai, io andiamo, cioè. Ma come tra un paio d'ore? Che dissi tu? No, è impossibile, mi ha detto che c'hanno le lezioni del Zumba. Eh no, mo, dai, stanno all'euro, hanno detto se le vogliamo raggiungere. Cioè, io e te con loro. Vabbè, tra un paio d'ore, torniamo però e... Dai, studiamo domani. Vabbè, domani, vai. Però domani... No, domani, te lo giuro, Giovanni, domani studiamo, fisso. Per forza. Giulia e Tamara, all'euro. E io c'è. No, vabbè. Grazie.